Filippo Capellupo, presidente regionale dell'Umpli Calabria, siamo a Gezzeria per il decimo premio caposuvero organizzato dal Proloco guidata da Giuseppina Fragale. Sì, dieci anni sono veramente importantissimi per quello che è successo all'interno di questi premi. Il primo anno quando tirò fuori questa idea Giuseppina io fui subito contento perché c'è un motivo importante che è quello di finalmente mettere in luce e premiare tante persone importanti che però non vengono mai premiate. Magari il premio ce l'avranno nel loro lavoro ma non emerge mai. Bene, in questi dieci anni abbiamo visto dalla magistratura, agli imprenditori, ai carabinieri, abbiamo visto veramente le cose più belle che questa Calabria riesce a far vedere attraverso un premio di questo genere. Altrimenti non avremmo avuto l'opportunità di vivere insieme con questi personaggi tutto il loro lavoro che invece per una vita intera hanno portato avanti. Bene, dieci anni sono importanti ma io dico che stasera, tra l'altro, l'aver premiato anche il colonnello Cucci per me è stato un grande onore perché il lavoro che loro hanno fatto da carabinieri forestali è un lavoro evidentissimo e una cosa importante che io ho potuto vivere negli ultimi mesi è stato che tantissime associazioni che sono venute a conoscere la Calabria hanno apprezzato e hanno finalmente conosciuto la nostra montagna che è stata curata in tutti questi anni proprio dai carabinieri forestali. Beh, allora un ringraziamento va veramente con tutto il cuore perché questa Calabria ha bisogno di tanta gente come loro che lavora per far emergere la bellezza della nostra regione. Grazie a tutti.